E come dicevamo, e l'avete sentito nel servizio tema caldo, quello dei migranti, dal resto gli ingressi nel nostro paese sono quadruplicati nei primi tre mesi del 2023. E allora il Ministro dell'Interno ha un nuovo piano che andiamo così a spiegare. Accelerare i rimpatri, frenare i flussi dei barconi, svuotare gli hotspot anche con ponti aerei. Il Ministro Piantedosi annuncia un nuovo piano in migrazione in considerazione di sbarchi già quadruplicati a quota 27.000 rispetto agli anni del Covid e in ulteriore aumento con la bella stagione. Rimandare indietro chi non ottiene il diritto d'asilo è uno dei punti chiave. Per incentivare le ripartenze verso i paesi d'origine potrebbe essere introdotto anche un bonus di 500 euro per ogni migrante pronto a tornare a casa al più presto. Il 90% dei paesi d'origine comunque risulterebbero sicuri, precisa il di Castero. In parallelo le domande d'asilo verrebbero sbrigate già alla frontiera e bisognerà raddoppiare il numero dei centri per i rimpatri. Dagli attuali 10 si passerebbe a uno per ogni regione. Contemporaneamente andranno svuotati gli hotspot troppo affollati. A partire da Lampedusa e Pantelleria dove sono in fase di progetto due nuovi centri d'accoglienza. Per i trasferimenti e gli alleggerimenti si potranno mobilitare l'aeronautica e la marina militare. Per frenare le partenze dalla costa a sud del Mediterraneo si concentrano gli sforzi in collaborazione con diverse zone di transito come Cirenaica, Tripolitania e soprattutto Tunisia. Già nei giorni scorsi una lunga telefonata con il ministro degli interni tunisino segna un rilancio degli accordi.